Buongiorno a tutti, io sono Elena Collini, sono un'attrice napoletana che vive a Milano ma ho appoggi in diverse città italiane, in primis Napoli e Roma ma non solo. Mi sono formata in diverse scuole, non le elenco qui e non sto a elencarvi neanche tutto il CV, tranquilli. Vi menzionerò soltanto un ruolo che mi è molto piaciuto ultimamente, cioè quello di Alba dell'Acqua, una partigiana, in realtà una docente di matematica che all'improvviso lascia tutto per diventare una partigiana. È stato un ruolo che ho interpretato di recente e che mi ha davvero coinvolto molto. Lavoro a parte, ho un'infinità di interessi, mi piace ballare da sempre, cucinare, giocare con mia figlia che è piccolina, due anni, viaggiare, sono stata anche tour leader, quindi ho portato proprio gruppi in vacanza, leggere, guardare film, insomma adesso non sto a farvi tutta la lista. Sono una persona sportiva, parlo molto bene l'inglese, sono madrelingua francese e ho uno spagnolo discreto. Queste sono le mie mani e questi i profili. grazie, ciao! Ciao!